Sarà il canale Ponte Rosso a Trieste ad ospitare il villaggio Abruzzo alla 47esima edizione della Barcolana, la regata velica più importante d'Europa. Una vetrina di promozione turistica per la regione Abruzzo che nei 2000 metri quadri di stand con 50 espositori metterà in mostra il meglio della sua produzione no gastronomica ed artigianato, oltre a tutta la sua bellezza naturalistica e paesaggistica e alle tradizioni secolari. Il villaggio Abruzzo alla Barcolana dopo la presentazione a Pescara è stato illustrato anche a Trieste nella sede della Camera di Commercio dall'assessore alle tradizioni locali della regione Abruzzo Donato di Matteo, che è stato assistito da un parterre d'eccellenza composto da Francesco Perroni, assessore regionale alle finanze, Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio di Trieste, il vice prefetto di Trieste Rinaldo Argentieri, teatino di nascita, i consiglieri provinciali e comunali di Trieste, il docente di fisica nucleare professor Gian Rossano Giannini, il presidente dell'Associazione degli Abruzzesi a Trieste e numerosi suoi associati, tra cui la dottoressa Maria Rosaria Marinucci, ricercatrice nel campo della fisica dell'atmosfera e moglie del premio Nobel per la pace Filippo Giorgi. Si articolerà con una parte legata alla ristorazione, con i vini tipici nostri, con i prodotti tipici, i piatti particolari della nostra terra e con i prodotti tipici dell'enogastronomia abruzzese. Poi c'è una parte destinata all'esposizione per il nostro artigianato, parteciperà l'endere regione per l'artigianato e poi tutta un'altra serie di espositori che vanno dalla promozione del territorio con le DMSI fino ad arrivare alla promozione dei vari prodotti tipici della nostra regione. Si conclude con uno spazio legato alle manifestazioni folcloristiche e tradizionali della nostra regione che ogni serata presenterà delle iniziative molto molto belle.